cari sorelle cari fratelli il signore vi dia pace siamo giunti alla terza domenica d'avvento dalla liturgia chiamata domenica gaudete e questo è l'invito che ci viene rivolto oggi dalla parola di dio rallegratevi gioite siamo ormai vicini al tempo del natale per indicare questa dimensione di gioia la liturgia si tinge di rosa al viola austero del tempo di avvento viene aggiunta una tonalità più chiara appunto il rosa per indicare il carattere marcatamente gioioso che la liturgia di oggi vuole rappresentare rallegrati figlia di sion grida di gioia israele questo è il grido della prima lettura del profeta sofonia che invita il popolo di israele a rallegrarsi il problema è che in quel momento israele non aveva non aveva nulla di cui rallegrarsi veniva da 50 anni di deportazione a babilonia era appena tornato nella terra di israele era stato appena liberato ma si trovava senza avere nulla senza più un tempio senza più una classe dirigente era un popolo che si aveva un nuovo inizio di fronte a sé ma non sapeva come affrontarlo è una situazione di scoraggiamento e ma sofonia non si dà per vinto è un popolo triste pessimista continua a dire e continua a dire per due volte il re di israele in mezzo a te il signore è in mezzo a te il signore in mezzo a noi questo è il messaggio centrale del profeta sofonia e questo è anche il messaggio centrale della seconda lettura di san paolo quando continua a dire il signore è vicino tutta la liturgia oggi grida rallegratevi rallegratevi voi perché il signore in mezzo a noi il signore è vicino belle bellissime parole bellissimo il messaggio sorge però un problema come fare a essere gioiosi in un mondo che non riesce a trasmetterti gioia come fare a portare la speranza che il signore è vicino a noi quando questa speranza sembra affievolire anche in noi quando il pessimismo si fa largo nel nostro cuore è un po il problema che aveva sofonia è un po il problema che abbiamo noi alle prese con le difficoltà di tutti i giorni alle prese con le difficoltà di questa situazione di pandemia di crisi economica di crisi climatica ambientale che può crearci turbamento e può oscurare fortemente il senso della speranza e dell'ottimismo ecco cosa fare che cosa dobbiamo fare per tenere accesa la speranza questa domanda se la ponevano anche le folle che andavano nel vangelo che sentiremo questa domenica a giovanni battista per farsi battezzare che cosa dobbiamo fare chiedono le folle a giovanni battista e giovanni battista da un loro una risposta anche se è una risposta un po laconica è una risposta che può lasciare un po perplessi giovanni infatti diceva ai pubblicani non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato e ai soldati giovanni diceva non maltrattate e non estorcete niente a nessuno accontentatevi delle vostre paghe e a tutti dice chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha e chi ad amaggiare faccia altrettanto ecco proviamo dirlo in un altro modo vuoi vivere alla presenza del signore vuoi vivere nella sua gioia come diceva il grande vittorio bachelet allora fai bene ciò che sei chiamato a fare come possiamo essere gioiosi nel momento in cui la speranza ci viene tolta il vangelo di oggi ci dà una risposta quanto mai semplice giovanni battista dice fai bene ciò che tu oggi devi fare fai bene il tuo compito di studente fai bene il tuo compito da lavoratore fai bene il tuo compito di padre di madre impegnati in ciò in cui tu sei chiamato a essere e a vivere alle volte cerchiamo grandi ricette grandi soluzioni per i nostri problemi eppure la prima forma del messaggio del vangelo è che non si sconvolge il mondo dall'esterno ma si comincia con la piccola rivoluzione di tutti i giorni facendo bene ciò che noi siamo chiamati a essere e operare è la rivoluzione dei piccoli è la rivoluzione di maria è la rivoluzione di tutti noi che viviamo nelle traversie del mondo che possiamo cambiare il mondo non attraverso grandi sconvolgimenti che pure ci sono non attraverso grandi invenzioni tecnologiche che pure continuano a essere e operare ma il mondo si cambia non con il tuo insegnamento ma con il tuo esempio il mondo comincia a cambiarlo lì dove tu sei allora sorelle fratelli buona gioia nel vangelo godiamo ed risultiamo perché il signore vicino è vicino in questa pandemia ed è vicino nella vita di tutti noi il signore vi dia pace